Buonasera, può un architetto diventare uno scrittore? Può questo scrittore diventare un noirista di successo, un saggista, un raffinato intellettuale che per raccontare il mondo usa la testa, sì la penna ovviamente, ma anche i piedi e poi vi spiegheremo in che modo. La risposta è certo che può, ma solo se sei e se ti chiami Gianni Biondillo. Buonasera e benvenuto. Buonasera a tutti voi, grazie di avermi invitato davvero. Parleremo delle scarpe che ci sono. Le scarpe sempre fondamentali. La patente no. Mai, mai, mai presa, ma non perché mi hanno bocciato l'esame di guida, è proprio ho scelto di non avere la macchina. Che dà qualche problema o no, alla fine ci si... Ma sai, se vivi in una grande città come Milano in realtà ti muovi abbastanza agevolmente. Certo, è vero che con due figlie quando erano piccole le vacanze erano complicate, però poi insomma vuol dire che ti portavi meno roba in valigia. Architetto e scrittore, io c'ho le prove. Ebbene sì. C'ho le prove, che è scrittore Gianni Biondillo. Lascio dire a te il titolo, perché non vorrei sbagliare a cento, io sarei andato dentro dritto con i cani del bar Rio. No, no, perché noi abbiamo dei bar di Rio de Janeiro. Invece i cani del barrio, perché il barrio è il quartiere detto in spagnolo, come i sudamericani, come i ragazzi sudamericani che vivono nel barrio dove abito io. Ed ovviamente è una sovrapposizione, perché Milano, fra gang di latinos che sono presenti in queste pagine, insomma, diventa, si sta un po'... Sai, io abito in una strada che è la più multietnica di Milano e d'Italia, dove vivono più di 40-50 etnie di tutto il mondo. Via Padova. Via Padova, appunto. E la comunità sudamericana è molto presente. Stiamo parlando di comunità che hanno fatto figli in Italia, che sono nati in Italia, che non hanno i documenti italiani, magari sono dell'Equador o del Perù, senza esserci mai stati in Ecuador o in Perù. E allora questi ragazzi qui cercano in qualche modo di unirsi fra di loro, anche in maniera illegale, facendo cose che raccontano in qualche modo il loro malcontento, insomma. Ed ecco che Gianni Biondillo si conferma, proprio nella tradizione dei noiristi, dei giallisti italiani, che attraverso le indagini, in questo caso della fortunatissima serie, tu hai voluto togliere, per esempio, la faccetta, che sarebbe molto interessante studiare la storia della letteratura e le pubblicazioni attraverso le faccette. Sì, è vero. Comunque è il ritorno molto atteso dell'ispettore Ferraro, lo sbirro senza qualità che ha conquistato i lettori italiani. È vero, li ha conquistati, perché questo è il nono libro di questa serie fortunatissima. Forse. Forse. Partita... Perché io ho perso il conto, quindi. Sì, sono nove. Ah, ok. Partita nel 2004 con Per cosa si uccide. Per cosa si uccide. Ha diventato maggiorenno, cioè 18 anni. 18 anni. Ha diventato maggiorenno, è visto. Interessante. Però sempre mantenendo questo aspetto. Il giallo, in fondo, è un pretesto per raccontare il mondo che cambia. Perché tu sei un camminatore e camminando vedi l'evoluzione, il cambiamento. Ma io sai... Però anche stando fermi si vedono i cambiamenti. Ognuno ha la sua sensibilità. È vero, io scrivo con i piedi. Non vuol dire che scrivo male, almeno non sono io a doverlo dire. Però attraversare il territorio, leggelo, interpretarlo, riscriverlo, è il mio modo di scrivere, il mio modo di pensare. Durante il primo lockdown io non ho scritto niente. Non potevo uscire di casa e non riuscivo né a leggere né a scrivere. Sembrerà strano. Uno diceva, hai tutto il tempo per scrivere quello che vuoi. In realtà non ce la facevo. Quando ho iniziato a camminare ho ricominciato a scrivere. Però il mondo cambia anche guardandolo da una finestra, stando fermi, è la finestra sul cortile, classico. Sì, sì, quello è il famoso esempio di Conrad che dice come faccio a spiegare a mia moglie che mentre guardo fuori dalla finestra sto lavorando. E questo è vero. Lo dirò al mio capo ufficio. La prossima volta che mi vede contemplare l'alto... Gli scrittori siamo un po' come dire delle antenne paraboliche, che sentono le vibrazioni nell'aria, che le recepiscono e hanno la fortuna di poterle restituire. In queste pagine c'è, a proposito di questo periodo, anche un virus che sta arrivando dalla Cina. Quindi fra questi cambiamenti etnici e le cose... Stavo dicendo, appunto, Biondillo si conferma scrittore di Noire e di Gialli, in realtà sociologo attraverso le pagine di Un Giallo e l'esperienza di un alter ego che è l'ispettore Ferraro. Io credo che questo ci sia riconosciuto a noi autori italiani di genere, di Noire, un po' anche nel resto d'Europa, quando vado in giro. Voi italiani avete questa attenzione particolare sul sociale, che magari in altri autori sono più interessati al meccanismo, all'orologeria, in qualche modo, al motore. Ecco, va bene, il motore è importante, però già che viaggiamo, guardiamo lo sto paesaggio che stiamo raccontando. Per me è molto importante, come per altri miei colleghi, intendo dire. Ma credo che la mia storia, in qualche modo, mi porta a voler raccontare quel tipo di società e appunto farne vedere le frizioni, farne vedere i problemi, le angosce, le ansie. Perché sai, Milano è una città, io racconto Milano, una città che ultimamente si è data una narrazione fin troppo autocelebrativa, la città che non si ferma, la città che cresce, la città che sale e va bene. Però poi sotto il tappeto stiamo mettendo un po' troppa polvere. Ecco, quella polvere è quel malcontento, quel malumore, quel malessere dove ti insinui tu. Che qualcuno deve poter raccontare. Ci sono i boschi verticali, ma ci sono anche le ombre prodotte dai boschi verticali. E ci sono i sottoboschi. E ci sono i sottoboschi. Allora, tu hai scelto il matto. Perché questa scelta? Perché sono tutte molto belle. Devo dire che anche questo, la morte era bellissima, per la ragione che la morte, in qualche modo, è il ciclo e la rinascita. L'amore, figure, però perché è da matti quello che faccio. Cioè ogni volta che devo cercare di spiegare... Io immagino le mie figlie che non sanno mai cosa rispondere, capisci? Non lo so, è un architetto che però scrive anche dei libri. Perché per gli scrittori è architetto, per gli architetti è uno scrittore. Però è sempre un giro che cammina, non si capisce che... Poi dici psicogeografia, vabbè, lasciamo perdere. Già, dobbiamo dirlo al nostro pubblico della Svizzera italiana. Ovviamente Gianni Biondillo, il suo nome è legato anche a un insegnamento all'Accademia di Mendrisio, psicogeografia. Psicogeografia e narrazione del territorio. Ecco, lì si mettono le scarpe, si va a camminare e si finisce nel territorio. Però adesso dobbiamo camminare con questo matto. Partenza. Perché poi ne parleremo assolutamente, sul territorio ci andiamo. Devo tirare il dado. Certo. Devo tirare il dado. Il dado è da trarre. Sei. Ma fai subito... Questa è la fortuna, devi darmi. Ma chissà se è fortuna. Una volta la fortuna è fare i passi brevi. Uno, due, tre, quattro, cinque... Aia, partiamo malissimo. Il lavoro. Partiamo malissimo. Vedi che le tue figlie non sanno cosa rispondere. Ecco, vedi. Ma che lavoro fa. Che lavoro fa. Dai, allora partiamo proprio dalla psicogeografia. L'hai cognato tu questo termine? No, no, no. Un termine che esiste fin dalla metà del secolo scorso. è un'invenzione delle avanguardie artistiche francesi. Adesso non ti faccio una lezione. No, no, no. Che è da noiosissimo. Però, per fartela super breve, in pillola, in un tweet, se la geografia è il modo in cui l'uomo influenza il territorio, lo trasforma, lo muta, lo cambia, lo modifica, la psicogeografia è come il territorio modifica la psiche di chi lo vive. Ok. Capisce? Potrebbe funzionare. Una somatizzazione. Ma non è solo se vivo in un luogo che persona divento, ma anche come io guardo il mondo, come il mondo mi obbliga a fare certi percorsi rispetto ad altri, come io reagisco a certe imposizioni dello spazio e come ci sia questa continua interrelazione fra interno ed esterno, fra psiche e realtà fisica. È sempre molto complicato. Quando tu porti i tuoi studenti scendendo da Accademia di Mendrisi o magari percorri il laveggio, poi c'è il basistero. Ho fatto le cose più strane. C'è il cavalcavia autostradale. La cosa che impressiona un po', va detto, è questa eterogeneità. Voglio dire, siamo contenti, ci piacciono le cose eclettiche, però quando non sono armonizzate magari rischiano di provocare dei danni. È una società molto tecnologica, capace di costruire molto, ma se a questa capacità tecnologica non corrisponde una capacità identitaria e culturale, si fanno dei danni. Allora, guarda, ti devo dire che il paesaggio è la risposta fisica, materiale, che la società dà di sé. L'idea che la società ha, anche involontariamente, anche inconsciamente, di sé. Questo significa che, per come la vedo io, non esistono in senso stretto luoghi brutti. Esistono tutti luoghi interessanti. Perché tutti hanno qualcosa... Ogni volta che vado in giro sento che c'è qualcosa che mi viene raccontato. Mi viene raccontato il territorio che mi dice l'economia ha creato questo spazio, la cultura ha creato questo spazio, l'abbandono ha creato questo spazio. Quindi, certo, è bello rifugiarsi nei centri storici, che amiamo tutti e li conserviamo, eccetera, eccetera. Però, è un po' come dire, se il salotto buono lo curo con attenzione, poi lo sgabuzzino gli butto dentro tutto quello che capita, tanto non lo vede nessuno. Ecco, lo sgabuzzino è il nostro inconscio, è quel pezzo di territorio che noi non vogliamo guardare, ma che ci somiglia, forse ancora di più, del salotto buono. Questa confusione che tu vedi è la confusione di una società che è troppo veloce, che è in continuo mutamento e che non riesce, in qualche modo, a preservare i suoi ambiti di qualità. Allora, c'era Italo Calvino, nelle città invisibili, che lo diceva. Quello che noi dobbiamo fare è trovare nell'inferno ciò che inferno non è, farlo vivere, farlo perdurare. È molto complicato, tra l'altro, il discorso, se pensiamo che la nostra è una cultura, è una società democratica, che però esprime a volte le situazioni architettoniche che sembrano non democratiche. Invece, tu sei un esperto, per esempio, di Giovanni Michelucci, autore che nel 1935, per esempio, ha creato quel capolavoro che è Santa Maria Novella a Firenze. Cioè, o possiamo pensare anche a Terragni, a Como, con la Casa del Fascio. Cioè, in un'epoca politica di fascismo è stata espressa un'architettura democratica. Ma sai, l'architettura viaggia a ritmi differenti da quello che uno immagina, dalla realtà in cui viene costruita. Un'architettura di qualità deve incorporare tempo e distanza. Ci sono architetture progettate sotto un regime che sono state poi inaugurate sotto un altro regime. Ci sono architetture che sono nate per una funzione e che poi ne hanno svolta un'altra. Come fanno? Ce la fanno perché sono architetture che hanno incorporato qualità. Allora, i due esempi che tu hai posto, la stazione di Santa Maria Novella e la Casa del Fascio, cioè Michelucci a Firenze e Terragni a Como, hanno costruito sotto il ventennio, ma non hanno fatto degli edifici tronfi e retorici. Esatto. E questa è la qualità che loro riescono a portare avanti. Quindi non sono due edifici fascisti. Sono due edifici che sono stati costruiti sotto il fascismo. Ma molti edifici costruiti sotto magari i regimi democratici sono molto più fascisti. Certo, esattamente. o molto più stalinisti di quanto noi immaginiamo. Assolutamente. E per fortuna che l'arte riesce a scappare ogni tanto dalle manacce delle dittature. Ed è la ragione per la quale dobbiamo leggere Dostoievski. Mai come in questi giorni. Sai la polemica che è arrivata in Italia. Non leggiamolo per quella tragedia che sta accadendo. È assurdo. È assurdo. Anzi, a maggior ragione dobbiamo leggerlo di più. Certo. A maggior ragione ti chiedo di lanciare il dado perché il gioco del mondo richiede la sua dinamica. Quattro. Sai che sbagliano tutti. L'oratorio. L'oratorio. Allora, noi non abbiamo detto, Gianni Biondillo, dove è nato. Abbiamo parlato un po' di Milano. Ma Milano è una città ovviamente grande. E a Milano ha accolto anche l'immigrazione meridionale. Tu sei figlio di un campano e di una siciliana. Quindi sono milanese doc. Milanesi di me non c'è nessuno. Esattamente. A Quartogiaro. Palazzi cresciuti in fretta per accogliere il forte flusso migratorio. Forse c'era più l'oratorio della questura. Guarda, allora, la questura non c'era neanche. Ti dico solo questo. Che quando io ho scritto il mio primo romanzo per cosa succede, il commissariato di polizia non esisteva. L'ho inventato io. Quattro mesi dopo hanno inaugurato il commissariato di polizia che la realtà si adegua alla fantasia. E questo è molto interessante. C'è un quartiere difficile, complicato. È un quartiere ultra popolare. Quello di Quartogiaro, dove sono cresciuto. Che ha una fama extraterritoriale. Cioè che io andavo in giro al mare di dove sei? Di Milano, Milano dove? Quartogiaro. Tutti a contrarre la catenina. Eravamo tutti criminali, assassini e criminaloidi. In qualche maniera. E non è vero, ovviamente. È un posto pieno di brave persone, di lavoratori. Anche con problemi, con frizioni. Anche con criminali. Nel mio cortile c'era gente agli arresti domiciliari. E cose di questo tipo. Con un tasso di istruzione molto basso. Ma con una voglia di emancipazione fortissima. In un fondo io lo racconto sempre. E lo dico anche con un certo orgoglio. Io sono figlio di due meridionali semi-analfabeti. Che sono venuti a Milano per migliorare la loro vita e migliorare la vita del loro unico figlio. E questi due meridionali, che non avevano un libro in casa, che avevano problemi a leggere i titoli dei giornali, eccetera, hanno comunque allevato un figlio nell'onestà. L'hanno fatto studiare. È andato all'università. Andare all'università è una cosa... E sono il primo di una enorme famiglia ultrapopolare che è andato all'università. Vuol dire che ci hanno creduto. E anche a Quartogiaro questa è una storia molto più semplice e molto più comune di quanto uno immagini. E guarda, l'oratorio mi piace come casella perché in effetti la questura non c'era, ma c'era l'oratorio. E c'erano questi preti di strada che raccoglievano a mazzi i ragazzini, se li portavano e li salvavano. Io dopo molti anni ho rincontrato a Quartogiaro un po' di ragazzi, che ormai adulti, alcuni con i capelli bianchi, alcuni calvi, tutto il contrario di me, come puoi notare. E tutti si ricordavano di questo prete, Don Stefano, che io a un certo punto l'ho anche messo dentro i miei romanzi. E ho detto, ragazzi, Don Stefano ci ha salvati la vita. Ci ha presi veramente dalla strada e ci ha dato un pallone, terra battuta. E in quegli anni dove Quartogiaro era la più grande piazza di spaccio dell'eroina di tutto il nord Italia, dove c'erano le Brigate Rosse che lasciavano le loro scritte sui muri e nessuno le andava a cancellare. Quindi erano anni veramente complicati. In questo mondo complesso, difficile, faticoso, dove dovevi in qualche modo crescere abbastanza velocemente, in fretta, un punto d'approdo, anche poi di gente che ha fatto tutto altri percorsi nella vita, che non è mai più entrato in una chiesa o quello che vuoi, è stato sicuramente l'oratorio. E attraverso l'oratorio poi tu hai preso brutto termine, forse, questo ascensore sociale, comunque ti sei emancipato da una condizione operaia diventando un intellettuale, cioè una persona che ha vissuto in mezzo ai libri. Non so se c'erano libri a casa tua, ma il tuo primo libro dove te lo sei procurato? Allora, voglio essere molto preciso, io non vengo da una classe, io vengo dal sottoproletariato. Quasi di Pasolignano a memoria. Adesso si stanno celebrando i cento anni della nascita di Pasolignano. Infatti Pasolignano è uno dei miei autori culto che io ho studiato fin da ragazzo. Cioè sto parlando di persone che vedevano il lavoro in fabbrica come emancipazione. Quella era l'emancipazione, il destino in qualche modo mio era trovati un lavoro in una fabbrica, quello era il massimo che mi si poteva augurare. Il primo libro che mi sono procurato, lo dico ormai perché sono scaduti i termini in prescrizione e l'ho rubato. Ecco, vedi che allora fan bene quando ti incontrano le persone. Ma guarda, io dopo molti anni, perché l'ho rubato in una scuola, nella scuola elementare, era 20.000 leghe sotto i mari, ce l'ho ancora, ero all'elementare, la maestra ci aveva detto portatevi a casa un libro e poi dopo io l'ho preso e ho detto ma è una cosa bellissima leggere un libro, questa storia è fantastica. Io non l'ho mai più restituito. Molti anni dopo sono tornato in quella scuola vergognandomi, portando dei libri miei, regalandoli, dicendo scusate per risarcire il furto fatto. E l'insegnante mi ha detto ma tu sei veramente sicuro che quella maestra non si era accorta che tu non gliel'hai mai restituito? Secondo me lei se ne è accorta. E che brava maestra se ne è accorta e ha taciuto la cosa. Ramazzotti, nato ai bordi di periferia, però tu non l'hai mai tradita alla periferia perché camminando tu cerchi la periferia e non il centro. Lo trovi meno interessante? Ma guarda, nei miei romanzi ad esempio non c'è mai il Duomo di Milano. Non viene mai, 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 mai descritto. Non ho mai fatto niente, gli voglio bene. Un giorno farò un capolavoro solo sul Duomo che è una meraviglia di architettura e di arte del mondo, un patrimonio dell'umanità. Ma io do le spalle al Duomo e guardo verso il fuori. Perché è banale il Duomo e si è impoverito umanamente. No, perché è un luogo comune. tu quando pensi a Milano cosa fai? Se dovessi fare un documentario su Milano la prima cosa che fai è drone sulla Madonnina va bene, la Madonnina è adorabile, le voglia un gran bene e ci veglia dall'alto. Ma... Le tangenziali e i sentieri metropolitani per citare un tuo progetto e una tua altra pubblicazione restituiscono un'umanità più... Ma dove vivono i milanesi? anche se poi è cambiato tutto nel senso che una volta c'erano le piazze che erano pubbliche adesso le nuove piazze sono private dove il patto è comprare si è diventati commerciali soprattutto l'omologazione pasoliniana ha vinto soprattutto nel centro avrebbe da dire anche patinandola no invece se dobbiamo rimanere come dire all'esempio pasoliniano c'è stata una lotta di classe ed è stata vinta dalla borghesia io non ho Pasolini da mostrarti ma ho altre immagini se capisci perché abbiamo fatto questo guardiamolo non ho dubbi a turn my collar to the corner when my eyes were stabbed by the flush of every heart this flees like night can touch the sound of silence and whisper in the sound of silence avremmo voluto montare immagini di Rozzano di Quartogiaro ma ti confesso non siamo riusciti a trovarle questa è la controprova di quello che stavamo se me lo dicevi vi accompagnavo io se me lo dicevi prima dai era questa delle immagini che raccontano quello prego che abbiamo due siamo sui sogni vedi dall'oratorio ai sogni che comunque tu hai i sogni sono desideri diceva la canzone Walt Disney di felicità esatto ma tu quindi con questo percorso era solo tuo il sogno di lasciare non di lasciare perché poi tu a Quartogiaro in Via Padova sei tornato appunto mi hanno detto non è che sei andato nel centro fighetto e patinato che trovi monte Napoleone ecco no non sei andato lì ma quindi sono un uomo che comunque i suoi sogni ha realizzati scrittore saggista hai un audience tu vendi pubblichi insomma avere una voce e poterla dire a differenza del sottoproletario che purtroppo io credo che esista una responsabilità quando tu come dire ha grandi poteri grandi responsabilità per rimanere nell'immaginario pop i sogni sono come una sorta di orizzonte dove più ti avvicini più l'orizzonte si sposta se tu ti accontenti se come dire hai trovato la formula e la ripeti sistematicamente uguale a se stessa allora la cosa non mi interessa più io ho bisogno continuamente di sentirmi messo in gioco ed infatti io mi sento continuamente un esordiente cioè il fatto che tu mi consideri in qualche modo arrivato che ha preso l'ascensore sociale tutte quelle cose che hai detto io ti ringrazio ma io mi sento continuamente messo in gioco e continuamente sotto esame non ho ancora risolto io nei miei vent'anni era la musica che era il centro del mio mondo nei trent'anni era l'architettura fatta costruita cioè facevo l'architetto intorno ai quaranta eccetera la scrittura magari adesso mi dedicarò alla danza classica non ti vedo bene francamente in tutù tu dici che cacciatore di squali chissà però questa idea che devi continuamente spostare l'asticella cioè che non raggiungi mai l'isola del tesoro perché la cosa più interessante non è trovare il tesoro ma è cercarlo questa è la vera ricchezza il vero sogno del viaggio è la più antica metafora della letteratura del mondo ci sono due storie che vengono raccontate da 3000 anni a questa parte in uno si pestano per 10 anni poi grazie a un trucco del cavallo la risolvono e un altro un tipo ci mette 10 anni per tornare a casa da una parte abbiamo tutti i fin di guerra del Vieta e dell'Iliade e l'altra l'Odissea è il grande viaggio iniziatico di tutti noi c'è un sogno che era quello dei futuristi che tu per esempio hai evocato e raccontato in un libro come sugli alberi le foglie ed ovviamente è una contrazione di un verso di Ungaretti che ovviamente ci porta alla prima guerra mondiale e se parliamo di prima guerra mondiale la parola guerra attualizza inevitabilmente sullo sfondo sappiamo cosa sta succedendo e Sant'Elia è il protagonista questo disegnatore raffinatissimo meraviglioso nonché architetto un genio rappresentante quella generazione che non ha sostanzialmente costruito niente perché è morto in guerra perché lui è morto in guerra lui è seguito insomma come altri studenti dell'Accademia di Brera le illusioni di Marinetti il manifesto si sono divertiti sia a provocare vero i benpensanti i posolos milanesi però poi hanno creduto nella guerra come igiene del mondo Sant'Elia Comasco poi morirà sul Carso nel 1916 un ragazzo è l'epopea di una nazione è l'epopea di chi crede nei sogni e poi trova la morte perché ti sei appassionato di questa storia due o tre ragioni però velocissimamente prima di tutto è l'epopea di una generazione non soltanto italiana ma europea perché quelli che poi sono sopravvissuti sono potuti tornare e raccontare l'orrore della guerra e anche cambiare idea però penso a Emilio Lussu un anno sull'alto piano capolavoro della letteratura lo stesso poeti Gadda scrittori eccetera ma quelli che sono morti sul Carso e sono tutti partiti volontari Gadda è partito volontario Lussu è partito volontario ma anche Eric Marie Remarque niente di nuovo sul fronte occidentale capolavoro del pacifismo tedesco partì volontario anche Tolkien partì volontario tutta una generazione falcidiata da una grande illusione da una grande bugia da un'idea romantica ottocentesca della guerra quando la guerra invece sta diventando moderna i carri armati nascono nella prima guerra mondiale gli attacchi aerei nascono nella prima guerra mondiale i campi di concentrazione il peggio del novecento nasce con la prima guerra mondiale e dopo cento anni siamo ancora lì allora vuol dire che non abbiamo imparato niente purtroppo la storia non è maestra di vita la storia non insegna nulla perché quando poi ti ci ritrovi rifai gli stessi errori io non sono d'accordo con Marx quando diceva la storia quando si ripete da tragedia diventa farsa quando si ripete è ancora più tragica e Sant'Elia questo genio che ha influenzato tutto l'immaginario del novecento non ha mai costruito niente perché a 27 anni si è ritrovato a morire senza esattamente capire perché Gianni tu come uomo sensibile e come scrittore quindi inevitabilmente come persona attenta anche all'estetica come stai somatizzando questa guerra e come tutte le guerre ovviamente è una guerra brutta bruttissima io ho letto per esempio De Lillo diceva la cosa che impressiona sulle tori gemelle non era tanto questo crollo monumentale delle twin towers ma era quel corpicino che cadeva certo e attraverso quel piccolo corpicino lui ha trovato un abisso di orrore tu nell'immagine delle guerre oggi visto che tu hai trattato una guerra la prima guerra mondiale oggi che cos'è che ti urta veramente nelle immagini che ti arrivano ma sai come tutte dalla prima guerra mondiale in poi soprattutto perché è stata anche la prima guerra mediatica un sacco di fotografie sono state fatte sul fronte anche dei video noi possiamo ricostruire la prima guerra mondiale con i documenti originali ecco è la propaganda la propaganda da tutti i punti di vista sempre sia anche dalla parte del giusto che dell'ingiusto ogni forma di propaganda in qualche maniera è una narrazione tossica cioè una narrazione che guarda sempre da un punto di vista pensa all'utilizzo che viene fatto di Hitler e del nazismo sia da una parte che dall'altra in qualche modo svuota della tragedia della seconda guerra mondiale di quello che è stato lo Shoah eccetera eccetera e lo fa diventare quando uno non sa cosa dire tira fuori allora non va bene noi dobbiamo trovare nuove parole per raccontare questa guerra perché le guerre si assomigliano tutte ma sono tutte differenti sono tutte diverse quindi la verità finire sempre fra le macerie la verità e poi l'unica cosa di cui siamo certi che chi muore è sempre la popolazione civile e questa è la vera tragedia chi muore sono le donne incinte che scappano dagli ospedali che sono evidentemente crimini di guerra però crimini di guerra che non vengono raccontati dappertutto allora qui quello che i media possono fare è molto più di quello che stanno facendo cioè riuscire a tenere dritta la barra della verità e non cadere nel discorso propagandistico esatto allora abbiamo il tempo credo ancora altro lancio un paio di minuti sì due due abbiamo evocato e caro armati eccolo lì su sacrificio altro proprio una brutta casella vogliamo andare oltre Gianni o ti viene in mente qualcosa sulla parola sul termine sacrificio ma guarda tutta la nostra vita è un sacrificio il motto il motto implicito dell'ispettore Ferraro è un po' il mio è la vita è una lotta nel fango rare le docce faccio un altro lancio sì dai tre stavolta un tre e finiamo per esempio due la stazione ferroviaria la stazione ferroviaria il viaggio il viaggio vabbè tu non hai la patente usi i piedi sì però ogni tanto ma tu sei la libertà per me è la ferrovia abbiamo già parlato anche di Michelucci scusami perché io amo la Svizzera perché la Svizzera come si autorappresenta nella Svisi Miniature la Svizzera si rappresenta con castelli architetture e trenini e trenini dappertutto l'orario dei viaggi io poi se lo trovo in romancio vado matto cioè me lo leggo tutto i viaggi più belli che ho fatto nella mia vita è con l'orario dei treni però la domanda è come viaggiatore Gianni Biondillo in Gianni Biondillo prevale l'architetto che guarda fuori dal finestrino si fa il viaggio così o prevale lo scrittore l'osservatore che spia magari di nascosto gli altri viaggiatori le due cose assieme le due cose assieme cioè paesaggio e persone fanno parte di un'unica narrazione un po' così un po' così un po' così un po' così un po' strabico senti quindi anche sul treno nascono comunque alcune tue pagine sì sì sono un grande osservatore un grande ascoltatore sono ti devi predisporre all'ascolto cioè io non amo quegli scrittori e comunque quelle persone che è un continuo io io guarda mamma senza mani io mi metto sempre molto umile perché tutti hanno una storia da raccontare mi piace ascoltare in questo periodo sto leggendo Yoga di Emanuele Carrere lui è uno che con l'autobiografismo ci è dentro parecchio io 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 poi si dipinge sempre non in modo molto costruttivo la carne cruda è il suo pasto di Emanuele Carrere però anche tu alla fine tanti l'hanno detto è scritto che l'ispettore Ferraro è un po' un tuo alter ego oltre siamo vi muoete a Quartogiaro che è un quartiere però sa lui ha una figlia divorziato e va in giro con la pistola io ho due figlie sono sposato e la pistola non l'ho mai preso in mano siamo due persone diciamo che è un caro amico che ogni tanto viene a trovarmi ci facciamo una birra insieme e lui mi racconta le sue storie va bene grazie per aver raccontato la tua storia Gianni Biondillo grazie a voi grazie grazie anche a voi per essere stati in nostra compagnia noi ci rivediamo la settimana prossima con un altro gioco del mondo con altre pedine con altre storie buona serata